Il tuo personaggio è il presidente della squadra di pallavolo femminile che vessa Fabio De Luigi che è l'allenatore e piega un sacco di botte da Carla Signoris che è mia moglie che mi becca col sorcio in bocca mentre mi trattengo allegramente con una cubana. Quanto è stato difficile girare la scena in cui tua moglie ti picchia? Tantissima anche perché è mena forte. Tre aggettivi per descrivere questo film? Divertente, intelligente perché non è così superficiale che uno può pensare. Scava nei rapporti fra uomo e donna naturalmente con ironia e credo che ognuno di noi si possa ritrovare in uno degli episodi o delle situazioni del film. Quanto c'è di tuo in questo ruolo? Ti sei ispirato a qualcuno quando hai letto il Copione oppure hai... A me perché ho preso un sacco di botte. Ultima domanda, un personaggio che vorresti interpretare in futuro? Sei un sogno... Falstaff. Avanzacelo. Grazie Francesca. Grazie. Grazie.